Ma che è sempre comunque molto importante, molto sentita dagli operatori sanitari, ma soprattutto dai piccoli pazienti, dai loro familiari. Certo, penso che lo sport possa dare molto in questo senso, sia in tante attività. E qui, venire a trovare dei bambini, credo che sia una cosa bellissima per quello che possiamo dare, anche solamente un attimo di serenità, per ritrovare un po' di spirito. Quindi credo che i bambini apprezzino e anche i giocatori sono contenti di questo, perché vengono molto volentieri. Tra l'altro quando si entrano in posti come questi, insomma, le polemiche, i fischi, tutto quello che riguarda poi le partite passa assolutamente in secondo piano. Vorrei vedere, credo che quelle siano cose da divertimento, una domenica va bene, una meno, ma insomma queste sono cose serie. E lo sport, il calcio in particolare, che è molto subito e conosciuto, può veramente regalare un sorriso, che è la cosa che il conto di questi tempi abbiamo bisogno di tutti, quindi diremmo su chi sta molto bene. Grazie.